Ciao a tutti! Se siete amanti delle pere, questo video è perfetto per voi. Oggi scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere su questo delizioso frutto, dalle sue proprietà benefiche ai modi per gustarlo al meglio. Prima di iniziare, assicuratevi di cliccare sul pulsante iscriviti e attivare le notifiche, così non perderete nessun altro video sulla nostra serie di frutta e benessere. Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci nel mondo delle pere. Le pere sono un frutto dolce e succoso, ampiamente apprezzato in tutto il mondo. Sono disponibili in una varietà di gusti e texture, ma tutte sono ricche di nutrienti benefici per la salute. Proprietà delle pere? Le pere sono un'ottima fonte di fibre alimentari, che promuovono una buona digestione e aiutano a mantenere un intestino sano. Sono anche ricche di vitamina C, che rafforza il sistema immunitario e promuove la salute della pelle. Le pere contengono anche vitamina K, che è essenziale per la coagulazione del sangue e la salute delle ossa. Benefici per la salute? Consumare regolarmente le pere può offrire una serie di benefici per la salute. Le loro proprietà antiossidanti aiutano a combattere lo stress ossidativo e proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi. Le pere possono contribuire a mantenere una pressione sanguigna sana grazie al loro contenuto di potassio e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Controindicazioni? Anche se le pere offrono numerosi benefici per la salute, è importante essere consapevoli delle possibili controindicazioni. Le persone con allergie alle pere dovrebbero evitarne il consumo. Inoltre, le pere contengono naturalmente zuccheri, quindi chiunque abbia problemi di zucchero nel sangue dovrebbe consumarle con moderazione. Infine, per coloro che soffrono di disturbi intestinali come il colon irritabile, potrebbe essere necessario limitare l'assunzione di pere per evitare potenziali fastidi. Curiosità sulle pere? Le pere sono un frutto antico che ha radici che risalgono a migliaia di anni. Esistono più di 3000 varietà di pere in tutto il mondo, ognuna con le sue caratteristiche uniche di gusto e aspetto. Le pere sono spesso associate alla sensazione di freschezza e sono un ingrediente comune in molte ricette dolci e salate. Le pere sono una scelta deliziosa e salutare da includere nella tua alimentazione. Ricche di fibre, vitamine e antiossidanti, offrono numerosi benefici per la salute. Quindi, la prossima volta che ti trovi al supermercato, non dimenticare di prendere qualche pera per goderti il loro sapore dolce e i loro benefici per il tuo corpo. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E se hai altre curiosità sul mondo delle pere o vuoi condividere le tue ricette preferite, lascia un commento qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!